Radio Bruno Siamo contenti di poter fare una gara che sia più veritiera di così, non si può perché è una concorrente che poi troveremo la quinta giornata. Quindi va bene così, siamo anzi vogliosi di prepararla nel migliore dei modi, di vedere anche a che punto siamo perché così possiamo anche fare un punto della situazione in vista del campionato. Torno Simone sul modo che ha questa squadra di difendere, ti piace perché sai quando giochi sempre in funzione dell'uomo adesso poi cambi radicalmente, adesso c'è la palla, la guardare in ogni situazione, è una cosa che ti piace di più, che ti piace di meno rispetto a quello che facevi prima? No, è molto stimolante, anche perché è un modo di giocare che si trova poi anche nelle grandi squadre, quindi la cosa importante è che va allenato in un certo modo e va fatto soprattutto credendoci molto, perché poi il rischio se fai le cose mezzo e mezzo è di fare un disastro, quindi va fatto credendoci molto, quindi sono molto contento, adesso cerchiamo di lavorarlo sempre, ogni settimana perché può portare risultati. Per chiudere la condizione fisica mi sembra sia buona? Sì, oggi ho visto anche da parte di tutti un po' più di sprint, un po' più di reattività, lì è sia un fatto mentale che un fatto fisico, comunque anche i lavori in questa settimana sono diventati un po' più di reattività, di pressione, quindi questo si è poi verificato anche in partita. Grazie mille. Grazie. Radio Bruno